Vigilia della partita con il Cassano Sibaris, siamo in compagnia dell'estremo difensore della Garibaldina, Desilio, che è tornato quest'anno a vestire la maglia giallorossa. Come vedi la partita domenica, quali sono le insidie principali? Allora, sicuramente è una partita che è un banco di prove importante per quello che è il nostro andamento nel corso del campionato, perché ci vede comunque riduci da una sconfitta importante e sicuramente abbiamo voglia di rifarci e di far valere tutto il nostro potenziale. Sicuramente sappiamo che non è una partita facile, anche in vista di quelle che sono assenze importanti, come lo stesso Fazio assente da ormai un paio di settimane, altri ragazzi che comunque riscontrano qualche piccolo acciacco. e quindi sicuramente arriviamo non al top della condizione, non al top delle risorse proprio per poter disputare una partita nelle migliori condizioni possibili. Ma sappiamo che comunque chi scenderà in campo darà il 150% delle proprie potenzialità per arrivare a un risultato che sia del tutto positivo, mettiamola così.